Come dicevo attraverso l'ultima fase del suo lavoro è la corrente artistica del neoplasticismo che sarà caratterizzata quindi da linee verticali e orizzontali nere con alternate delle campiture gialle, rosse e blu, quindi sempre con i tre colori primari alternati a degli elementi di varie tonalità di bianco o bianco-grigio e che creeranno questo equilibrio armonioso fra forme e colori. Il quadro numero uno fu la prima tela, la prima di una lunga ricerca di circa 120 tele realizzate seguendo queste regole, diciamo così. Queste linee verticali e orizzontali nere arrivato in America si trasformeranno invece in un alternarsi di colori quindi le linee da essere nere diventano loro piene dei tre colori primari quindi il giallo, il rosso e il blu alternati al bianco e in particolar modo in quest'opera sembrano vibrare e dilatarsi più o meno come le luci che si trovano sulla strada sulla Broadway e quindi finalmente a New York trova forse la sua dimensione più serena e realizzerà forse una delle sue opere più belle. Finisce qui l'astrattismo, spero sia tutto chiaro, altrimenti chiamatemi. Ciao ciao!